Una partita dura, difficile, da cardiopalma, perché il Verona ha fatto una buonissima partita, anzi complimenti perché ha lottato fino alla fine, è una squadra che oltretutto esprime un buon gioco. E noi siamo state brave, brave a ribattere colpo su colpo, a saper soffrire quando era il momento di soffrire, a ripartire, abbiamo dato tanta qualità, ho visto tanta coesione in campo, che poi in termini tattici significano distanze, quindi legami, distanze, saper soffrire, metterci la qualità, significa anche sbagliare meno passaggi, fare attenzione di più ai tempi, direi che se c'è un neo, che in certi momenti queste partite vanno chiuse un po' prima, e anche perché non fa stare il mister così male in panchina, si soffre troppo. Le alleno quasi tutti i giorni, e quindi vedo sempre che si allenano con massimo impegno, con grande determinazione, che queste ragazze hanno tanta tanta qualità, e quindi è per questo che non ho mai perso fiducia, e come adesso bisogna rimanere naturalmente sempre molto concentrate, perché non è finita. Sì, direi che c'è stato un po' di tutto, perché le ragazze più giovani piano piano sono cresciute, sono migliorate, hanno acquisito un po' di mentalità, Abbiamo recuperato tanti attaccanti infortunate, e quindi anche l'intensità, insomma l'esperienza che abbiamo fatto è servita molto, e quindi le motivazioni sono queste. Eh sì, è la crescita che questa squadra ha fatto, una crescita di mentalità, è una squadra che pian piano ho visto crescere proprio in tutto, di condizione fisica, di condizione mentale, di qualità, e insomma è questo, i risultati si vedono. Non guardano nient'altro, cioè dobbiamo guardare a noi, continuare a lavorare così in settimana, prepararci al meglio, rimanere concentratissimi, attenti, dare il massimo, che è importantissimo, bisogna uscire dal campo avendo dato tutto, col cuore, con la testa, entrambe, e quindi poi vedremo, poi vedremo, ma la strada è questa, e niente, poi vedremo cosa succederà, se dovremo fare lo spareggio lo faremo, se ci sarà qualcosa di diverso ben venga, però insomma in questo momento sono troppo concentrata sulla mia squadra per pensare ad altro. Sì, sono contenta sia per me stessa che per la squadra, perché comunque oggi dovevamo portare a casa tre punti fondamentali, e così è stato, siamo state molto brave a tenere sempre il risultato, e abbiamo sofferto, però abbiamo portato a casa i tre punti. Ultimamente abbiamo trovato un nostro assetto, quindi diciamo che in campo ci troviamo meglio, e questo molto probabilmente ci ha portato a fare questi ultimi punti. Adesso manca ancora una partita, perché non abbiamo ancora fatto niente, e quindi dobbiamo vincere l'ultima finale, e poi si vedrà. Noi dobbiamo pensare a noi, e portare a casa i tre punti sabato, che sarà difficile a Bari, e poi sperare che qualcun'altra perde, e così comunque chiudiamo in bellezza il nostro campionato. Beh, sicuramente siamo migliorate a livello mentale, perché ok, essere allenate conta tantissimo, conta la corsa, il lavoro aerobico, però se non sei forte di testa e mentalmente non riesci a superare degli ostacoli che comunque noi abbiamo vissuto e siamo state brave a superarli. Sì, sicuramente avremo le motivazioni a mille, perché dopo queste tre vittorie consecutive il morale comunque è abbastanza alto, e quindi possiamo allenarci serenamente per arrivare al meglio sabato.